Imprigionato nel meta-universo, Sua Eccellenza Benito Mussolini viaggia nel tempo, giungendo a 1960 a Torino per incontrare il re dell'occultismo Gustavo Roll. Il duce è davanti alla chiesa della Gran Madre, uno dei simboli dell'occultismo di cui è maestro Roll, la statua della fede che tiene in mano la coppa del sacro Graal. All'interno di quello che era il Tempio di Iside non vi è nessun fedele, a testimonianza di una società scristianizzata dedita al materialismo dopo che il Papa Gelsomino all'Argentino ha dichiarato che Dio non è cattolico. L'altare con la Madonna e il Santo Bambino vegliano però su un mondo al di là di questa realtà. Mussolini è commosso. Amedeo di Savoia, morto per un'indigestione di magna cauda, lo incita a continuare il suo viaggio, mentre Santa Margherita, portatrice della pizza, gli mostrerà il cammino. Perché chi si ferma è perduto e chi non si ferma è Mussolini!